Oggi vi faccio vedere una delle cinque stelle a 20 euro a Bali. Siamo entrati. Questa è la reception. Tutto in marmo. Molto bello. Questa è una piscina. Ci sono gli ottini che potete usufruirne comodamente in maniera gratuita. Questa è un'altra piscina per bambini immagino. È bello perché è tutto in marmo. Questo è lo spazio per la colazione, ovviamente adesso non c'è, tutto in marmo sempre. Si prosegue qui, vedete com'è. Ed eccoci qui nella stanza. Guardate che bella. Con la finestra vista piscina. Qui c'è tutto il set, un'acqua. A cappatoio, vediamo il bagno. Set di asciugamano. E voilà. E questa è la palestra che io non userò. Neanche per un secondo mi sfioro l'idea di usare la palestra. qui a Bari. Però voglio farvi vedere che c'è. Sempre vista piscina. In palestra potete usufruire gratuitamente delle towels più acqua fresca. Eccezionale. Ripresa dall'alto. E questo è lo sky bar. Come potete venire a prendervi qualcosa da bere se siete affaticati. Sempre vista piscina. Beh signori direi che per 20 euro con la colazione inclusa che vedremo domani è tanta roba. ovviamente 20 euro a persona. Grazie a tutti.